Noi tifosi Moco ci reddiamo in questa squadra, tu cosa ne pensi di questa squadra? Come è organizzata? A che punto è? Sinceramente ha delle potenzialità incredibili e secondo me non è ancora al suo massimo. Hanno un allenatore che imposta un metodo di gioco molto difficile, ma nel momento in cui lo ha anche perché io l'ho potenissata in piera d'aglia e quando funzionano le cose possiamo rigiocare nessuna squadra che può contenere. In confronto all'andata si vede già che ha iniziato la squadra metropolitana su modo di gioco e io penso che se arrivano verso la fine stagione che riescono a fare loro la sua mentalità, mettono qua a morire. Riguardo a voi, come state crescendo? Perché mi pare che la squadra è in crescita, no? Noi non lo so. No, io vi ho visto bene a tratti, ecco, diciamo. Vi ho visto bene a tratti. Sì, ragazzi, ogni tanto ci perdiamo dei bicchetti d'acqua, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare tanto. Il problema è che abbiamo ancora poco tempo, quindi dobbiamo sfruggere in freddo.